Continua l'estate caffona, a riferirlo è il membro del direttivo nazionale di cittadinanza attiva Mario Fortunato, il quale, con una foto scattata dal suo telefonino, ha immortalato un uomo che fa fare il bagno al suo cane nelle limpide acque della stupenda baia della città della Spigolatrice. L'agente, scrive Fortunato, fregandosene del rispetto delle regole della buona educazione, continua a perpetrare atti indegni che mal si coniugano con il buon vivere in una società civile. E in questa estate, veramente caffona, ci è toccato assistere a gesti di ogni genere. Panni stesi sulla ringhiera, nei pressi della spiaggia di Santa Croce, a Sapri, a poche decine di metri dalla specola e dal sito archeologico, cani che si azzannano sull'isola pedonale, signore che si portano l'animale nella toilette del treno. Si tralascia la processione di cani condotti a passeggio che fanno liberamente i loro bisognini sulla strada, uomini a torso nudo e donne in costume al centro del paese, veicoli parcheggiati in modo incivile. Immagini che non vorremmo vedere mai più, conclude Mario Fortunato, perché offendono e non fanno certamente bene al nostro turismo. È compito dei preposti far rispettare le regole come dovere dei cronisti continuare a segnalare tali immagini degradanti nella speranza che le denunce possano servire a migliorare i comportamenti. Agli inizi di agosto la giornalista occidentana Maria Antonietta Ezzinosa pubblicò una foto nella quale si vedevano due bagnanti in costume sull'uscio della chiesa Portosalvo di Villammare.